Questa è la quarta edizione di una mostra internazionale come l'ho sentito, il fatto che viene a Buster Sizio mi rende orgoglioso. Poi stavo pensandoci prima, tutto sommato questa è casa tua, io posso dire che anche entrando, vedendo questo magnifico museo, questa è casa tua. Permetto solo di fare un ultimo ringraziamento a questo punto a tutti gli venditori che ci sono stati a Busto, a tutti i nostri avi e a tutti quelli che ci sono ancora che lavorano nel campo a tessere. Perché sono loro che hanno fatto grande a Buster Sizio, sono loro, se possiamo essere in questo edificio è grazie a loro, devo dire che l'hanno creata loro perché il tessere era tutto per Buster Sizio. Anche oggi il tessere la fa ancora la padrona e questo grazie a tutti i nostri imprenditori lungimiranti e direi veramente bravi, eccezionali che sono ancora nel nostro territorio e che contribuiscono ancora una volta a rendere forte, a rendere grande la città di Buster Sizio. Quindi un applauso anche a loro. Grazie. Grazie. Grazie.